9.37 minuti, ve l'ho detto oggi sono tantissime davvero le cose da dire, tantissime le notizie tutte schiacciate in due ore che sembrano lunghissime ma poi invece si fa fatica a contenere tutto quanto. Vogliamo fare un leggero passo indietro rispetto a quello che è stato annunciato negli scorsi giorni, un provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, un DL Sicurezza, così a quanto meno viene chiamato con una lunga lista di nuove norme, una fabbrica di reati viene quasi definita, adesso forse non so se è una definizione che il nostro ospite approva, lo interpelliamo tra pochissimo. Chi è meglio di Leonardo Bianchi per raccontarci il contenuto di questo complesso lungo e insomma difficile da esplorare decreto legge, ma è quindi appunto lo accogliamo qui su play, Leonardo Bianchi scrive per FACTA, molto attivo anche ad esempio sul suo profilo Instagram con tanti contenuti di approfondimento sulle varie notizie, anche questa. Insomma ciao Leonardo, bentornato. Ciao, ciao, grazie all'invito. Allora purtroppo ti lascio subito la patata bollente perché appunto è un decreto che contiene tante cose molto diverse tra loro, tu riusciresti a farci una piccola panoramica, cercando di capire quali sono i punti quantomeno che sono toccati da questo decreto se mai venisse poi approvato? Sì, allora innanzitutto la definizione di fabbrica di reati se la provo anche perché banalmente l'ho inventata io, l'ho detta ai colleghi di internazionale quando ho fatto il podcast Il Mondo. Dunque perché fabbrica di reati? Perché fondamentalmente questo pacchetto sicurezza va a inventare nuovi reati o inasprire reati, inasprire le pene di reati che esistono già. Allora tra tutte le varie misure proposte ci sono alcune misure spot diciamo così per cui è impossibile essere in disaccordo tipo l'aumento delle pene per le truffe degli anziani, dire chi è che non vuole vedere punite le truffe degli anziani e poi tutta un'altra serie di previsioni che vanno a incidere su alcuni temi, su alcune preoccupazioni o sugli oggetti di alcune campagne mediatiche abbastanza forsennate negli ultimi mesi C'è un nuovo reato che punisce le rivolte nelle carceri che tra l'altro sono già punite abbondantemente con vari reati, un reato che inasprisce le pene per chi fa resistenza o violenza contro gli agenti delle forze dell'ordine, un altro reato contro il blocco stradale e qui il riferimento è ovviamente alle manifestazioni di protesta di gruppi come Ultima Generazione che già del resto sono stati presi di mira da un altro decreto, un'altra legge che sarebbe quella contro il danneggiamento di opere d'arte e poi quella che secondo me è la più spot e anche più problematica che è soprattutto una serie di misure contro i borseggi e l'accattonaggio di minori. Perché è problematica? Perché è chiaramente ritagliata su poche persone di etnia Rom che da mesi sono al centro di una martellante forsennata e ossessiva campagna social mediatica. E anche per questo che oltre a fabbrica di reati questo decreto per me dovrebbe essere chiamato decreto attenzione pickpocket, cioè dal famoso meme della consigliera leghista tra l'altro che è diventata famigerata perché inseguiva appunto dei presunti borseggiatori e borseggiatrici in giro per Venezia. Esatto. La razza del provvedimento è quella insomma. Sì insomma tutte le norme che hanno un tono vago, un linguaggio vago ma che poi se si va a leggere un po' più nel dettaglio si capisce che hanno un obiettivo molto molto preciso, un obiettivo molto preciso che mi sembra di emerga e non è neanche troppo sottile mi pare anche molto dichiarato e l'enorme mano stretta a tutte quante le forze dell'ordine. Ora non voglio fare necessariamente un intervento contro quelle forze dell'ordine, ci mancherebbe, però si parla di una cifra molto alta, una percentuale molto alta dei fondi ad esempio della manovra di bilancio nei confronti degli stipendi delle forze dell'ordine eccetera eccetera. Nel corso della puntata oggi ho letto dei continui crolli che ci sono negli edifici scolastici italiani, insomma ho fatto un po' la tara rispetto alla differenza di spesa rispetto a questi due ambiti. Non so se anche tu la vedi così appunto e soprattutto se la vedi anche in termini elettorali, chiaramente all'interno delle forze dell'ordine i partiti del governo sono particolarmente ben visti e quindi forse si agisce anche in quel senso o forse c'è dell'altro? Sicuramente come dici tu, nel senso che Fratelli d'Italia e Lega sono da sempre o comunque dagli ultimi anni molto vicini a certi sindacati di polizia che chiedono costantemente più fondi, più dotazione, più norme a loro favore. Ricordiamo che siamo in un paese che secondo le statistiche ha tra agenti di polizia, carabinieri, guardie forestali, guardie di finanza, polizie locali e altri corpi circa 300.000 effettivi, 300.000 unità che è un numero enorme, molto più alto rispetto a quello di altri, il rapporto alla popolazione rispetto ad altri paesi. Dico questo perché c'è un'altra misura che è prevista in questo decreto che ha fatto discutere che è appunto la possibilità che viene data a queste 300.000 persone, o comunque agli agenti in generale, di portare un'arma diversa da quella d'ordinanza senza bisogno di ulteriori licenze e questo è non solo un favore agli agenti, non solo un favore gratuito agli agenti ma anche crea con un colpo di penna centinaia di migliaia di potenziali acquirenti di armi e questo ovviamente è una cosa che fa, seppe in termini di scambio elettorale o comunque di pagamento di cambiali elettorali, chiamole così, è una cosa che fa molto piacere anche alla lobby delle armi chiaramente, all'industria armiera che si vede appunto creare potenzialmente, non è detto che adesso tutti i poliziotti si mettono a comprare un'arma però va a creare potenzialmente un bel bacino, un nuovo bacino di utenza molto ricco. Quindi sì, chiaramente c'è anche quell'elemento di ricambio, ecco, tu mi appoggi elettoralmente io faccio sì che quel voto sia ripagato in qualche modo, nulla di strano. Esatto, sì, non è qualcosa che si sono inventati con questo governo, è qualcosa che esiste dall'inizio della storia della politica certo che questo scambio si basa su una grande immissione di probabilmente di armi all'interno del paese sappiamo, ce lo insegna paesi come gli Stati Uniti, che quando ci sono tante armi e pochi regolamenti come ci sono effettivamente per ora in Italia, ne parliamo molto spesso con Giorgio Beretta di Opal il rischio è invece di un aumento della violenza e di un aumento invece della sicurezza tu hai citato alcuni dati, ce ne sono altri che sono interessanti, cioè che questo DL Sicurezza viene presentato ideologicamente anche come qualcosa che deve far fronte all'emergenza della sicurezza all'esplodere dei reati, che poi però se si va a guardare bene, in realtà sono in netta diminuzione da decenni tranne uno in realtà, che è quel reato di cui si sta parlando moltissimo in queste settimane ovvero il femminicidio è di una ampissima parte della popolazione italiana che invece non si sente affatto sicura e insomma questo sembra andare un po' in contraddizione con quello che viene portato con molta facilità ad all'approvazione di un Consiglio dei Ministri e invece altri temi che latitano da molto tempo e sono molto più difficili da affrontare Sì assolutamente, questo ricalca tra l'altro lo schema che ha sempre adottato questo governo cioè quello di legiferare sull'onda dell'emergenza del momento o in base all'ondata emotiva del momento ricordiamo che il primo atto di governo, del governo Meloni, è stato il decreto anti-rave quando sembrava che i rave fossero la piaga del mondo ma è stato un anno, non mi pare che il problema sia stato risolto con questo decreto così come questo decreto certamente non risolverà il problema dei borseggi nelle metropolitane e appunto quando dicevo che era problematica è ritagliata su misura su poche persone la cosa più problematica appunto è che viene tolto l'obbligo di riferimento della pena per le donne incinta o che hanno un figlio su tre anni perché si basa su appunto questa evidenza diciamo così di pochissime persone che commettono furti incinta però è un decreto veramente ritagliato su pochissimi casi e tra l'altro non è che queste persone sono sempre incinta per rubare questo è una leggenda d'odio che chiaramente deriva da un antiziganismo diffuso che tra l'altro gli esponenti sia della Lega che di Fratelli d'Italia da Meloni diceva che i nomini devono nomadare Salvini non ne parliamo con la Ruspa eccetera è perfettamente in linea con una politica marcatamente razzista e discriminatoria con fronte di minoranze già estremamente marginalizzate anche da norme del genere questo per dire che ci si basa appunto su i meme l'attenzione pickpocket e poi quando ci sono problemi strutturali che richiederebbero un intervento complessivo e organico di riforma completa non solo del quadro giuridico ma anche proprio di quello quadro culturale e sociale il suo governo e questa destra in generale poi non solo la destra chiaramente su questo tema dei femminicidi non ha risposta in merito se non limitarsi a qualche dichiarazione di circostanza e promettere di fare qualcosa affidando poi come abbiamo come come ha rilevato Christian Raimond su domani sul giornale domani affidando la questione dell'educazione sessuale affettiva a una persona che dice che le donne sono cattive e sono praticamente delle streghe quindi questo è la realtà dei fatti da un lato decreti, spot fatti sull'onda dell'emergenza presunta o presuntatale del momento e dall'altro una completa incapacità di affrontare le questioni sistemiche quelle sì sono veramente un'emergenza proprio perché è un'emergenza seria e reale e concreta che impatta veramente sulla vita delle persone si fa bene a menzionare anche il resto dello spettro politico perché chiaramente noi ci rivolgiamo in questo momento al governo che è in carica ma quando si parla di grosso cambiamento radicale, culturale quello di cui stai parlando non ci sembra che nemmeno nei tutti i tanti governi precedenti ci sia mosso in questa direzione questo va evidentemente sottolineato io ti ringrazio davvero Leonardo per questo approfondimento ne approfitto per segnalare ai nostri ascoltatori se ti volessero seguire appunto ti trovano su Fakta ti trovano anche sul tuo profilo Instagram ad esempio io cito quello perché guardo principalmente quello non so se sia lì principalmente che produci il tuo materiale in realtà TikTok ecco TikTok come ci ricordi il nome? allora su TikTok è Blicero ok su Instagram Capt Blicero ma se si cerca Leonardo Bianchi viene fuori lo si trova lo si trova no lo segnalo perché insomma le questioni che abbiamo raccontato qui le abbiamo raccontate insomma un po' con l'occhio di Falco un po' da lontano invece tu vai un po' più nel dettaglio in questi tipi di approfondimento allora grazie mille davvero Leonardo ancora per questo contributo e buona giornata alla prossima grazie grazie e buona giornata anche a te grazie a tutti